Musica Guardia di finanza di Salerno, sequestrati oltre 10.000 prodotti non conformi agli standard di sicurezza. Caggiano, brutta avventura per due arrampicatori di potenza, ferito uno dei due scalatori dopo un volo di circa 3 metri. Doppio furto a celle di Bulgaria, ladri in fuga, recuperata la refurtiva ad Agropoli. Mutali passi, ottimo lavoro grazie alla videosorveglianza. Castellabate è polemica sulle Cinque Vele, la minoranza attacca il sindaco Rizzo. Soddisfazione invece nel comune di San Giovanni Appiro per l'importante vestillo conquistato. Svanisce il sogno Serie D per l'Agropoli. I delfini vincono 2 a 1 ma a festeggiare la promozione è il Gallipoli grazie al 4 a 1 dell'andata. Amici e telespettatori di Infocilento TV, benvenuti al quotidiano e consueto appuntamento con la nostra informazione rigorosamente in diretta sul canale 79 del Digitale Terrestre. Come avete ascoltato dal nostro sommario, apriamo questo appuntamento quotidiano con una notizia di cronaca. La Guardia di Finanza di Salerno ha sequestrato circa 10.000 prodotti non conformi alle norme sulla sicurezza. I finanziari di Vallo della Lucania, del distaccamento di Vallo della Lucania, hanno fatto razzie in un locale appunto nel centro cilentano. Ma sentiamo tutti i particolari nel servizio di Ernesto Rocco. Nell'ambito delle attività poste in estere dal Comando Provinciale di Salerno della Guardia di Finanza, si è provveduto a sequestrare oltre 10.000 prodotti non sicuri. L'indagine è partita dai finanzieri della Compagnia di Vallo della Lucania e ha portato all'identificazione di esercizi commerciali che vendevano prodotti in violazione delle norme sulla sicurezza degli stessi. Nello specifico è stato eseguito un controllo presso un grande magazzino nell'entroterra cilentano. Qui sono state trovate merci per la casa, l'ufficio, materiale per il bricolage, bigiotterie, accessori donne, articoli vari da regalo. Questi erano esposti e detenuti per la vendita senza però rispettare le norme previste. Un'analisi più accurata ha rivelato che tali prodotti non erano conformi alle disposizioni del Codice del Consumo, poiché privi di informazioni identificative essenziali come i dati del produttore e dell'importatore, il paese d'origine, la natura dei materiali utilizzati, le istruzioni e le precauzioni d'uso. Di fronte a queste presunte irregolarità, le fiamme gialle hanno proceduto al sequestro amministrativo di oltre 10.000 prodotti, tra questi fermacapelli, collane, bracciali, orecchini, pietre ornamentali, adesivi e prodotti per il fai-da-te. Il titolare dell'attività rischia ora una sanzione fino a 25.000 euro ed è stato segnalato alla Camera di Commercio. Adesso invece ci spostiamo a Cagiano dove una brutta disavventura ha avuto come protagonisti due scalatori originari e provenienti da Potenza. Uno dei due purtroppo a causa di una caduta di oltre 3 metri si è ferito, diverse sono state appunto le ferite, ma sentiamo tutti i particolari nel servizio di Federica Pistone. Momenti di paura per due arrampicatori di Potenza, i due si trovavano nella giornata di ieri nel territorio di Cagiano, quando uno di loro si è infortunato dopo una caduta che gli ha provocato diverse fratture, dopo un volo di circa 3 metri, a dare l'allarme l'altro amico che ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri forestali, la Guardia di Finanza e la protezione civile Gruppo Gopi Ollus. Presenti anche i sanitari del 118 per le prime cure del caso. Il ferito è stato poi trasportato all'ospedale Luigi Curto di Polla. E adesso continuiamo sempre sulla cronaca. Ieri un incidente è avvenuto lungo la strada statale 18 nei pressi di Vallo della Lucania. Una donna a bordo di una Mercedes è rimasta ferita, ma sentiamo tutto nel servizio. Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri lungo la strada statale 18 in località Spinacelli a Vallo della Lucania. A rimanere coinvolta nel sinistro è stata una Mercedes classe A con a bordo una 54enne originaria della Bulgaria. Per cause in corso di accertamento, la donna che si trovava alla guida è improvvisamente perso il controllo dell'autovettura e quest'ultima si è capovolta su se stessa. Tanto ha la paura per la malcapitata che è rimasta incastrata nella macchina. Sul posto è necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania che hanno dovuto estrarre la 54enne dalle lamiere. Necessario è stato anche l'intervento dei sanitari del 118 a bordo di due ambulanze provenienti dal San Luca di Vallo della Lucania dove la donna successivamente è stata trasferita per i dovuti accertamenti del caso. Diverse le ferite riportate ma fortunatamente la malcapitata è risultata sempre vigile e non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo del sinistro presenti anche i carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania e gli agenti della Polizia Municipale che hanno partecipato a tutte le necessarie operazioni. E adesso invece ci spostiamo a celle di Bulgaria. Doppio furto è stato messo a segno nello scorso weekend. I ladri sono stati inseguiti e sono stati costretti ad abbandonare la rifurtiva proprio nella città di Agropoli. Una Fiat Punto che ha partecipato alle operazioni è stata identificata grazie alle videocamere di videosorveglianza posizionate in città. Un plauso è arrivato anche dal sindaco Mutali Passi. Ma sentiamo tutto nel servizio. Furto è in piena notte lo scorso weekend a celle di Bulgaria. La vicenda inizia intorno alle 2.30 di venerdì notte quando una Fiat Panda con al bordo almeno due persone è stata vista per la prima volta tra le stradine di celle di Bulgaria. Dopo un'ora un colpo è stato messo a segno e danni di un camion presente nel centro del paese e appartenente ad un noto mobilificio del posto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti accaduti sembra che uno dei malviventi che si trovava nella Fiat Panda si sia impossessato del mezzo che al suo interno custodiva svariati mobili e subito dopo a bordo dello stesso abbia saccheggiato anche una ferramenta poco distante dal camion. Messe a segno i due colpi il ladro ha poi cercato di darsi alla fuga. Ad accorgersi di ciò che stava accadendo è stato un familiare del proprietario del camion. Alla vista del mezzo in giro per celle di Bulgaria il giovane ha telefonato ad un suo parente per accertarsi della situazione. Una telefonata che alla fine è risultata provvidenziale. Il proprietario del mobilificio ha subito capito che c'era qualcosa che non andava motivo per il quale nell'immediato sono state allertate le forze dell'ordine. Giunti sul posto i carabinieri della compagnia di Sapri subito si sono messi sulle tracce del camion e della Fiat Panda che nel frattempo si erano diretti sulla superstrada cilentana in maniera tale da far perdere le proprie tracce. Un lungo inseguimento avvenuto a velocità sostenuta è iniziato intorno alle 4 del mattino lungo l'importante arteria che ha visto coinvolti non solo i carabinieri di Sapri ma anche i colleghi delle compagnie di Vallo della Lucania e di Agropoli subito allertati. Una folle corsa che è terminata alle porte della città di Agropoli quando il ladro vistosi braccato dalle forze dell'ordine ha abbandonato il camion e si è dato alla fuga a piedi. Recuperato il camion con tutta la mercia a bordo quest'ultima è stata restituita ai legittimi proprietari. Nel frattempo però sono continuate le ricerche dei malviventi e alle prime luci dell'alba una Fiat Panda è stata inseguita e fermata dai militari di Agropoli in località Madonna del Carmine ma gli occupanti sono riusciti a darsi alla fuga. L'automobile è risultata rubata tre mesi prima a Potenza in Basilicata. L'identificazione dell'auto rubata è avvenuta grazie alle nuove telecamere di videosorveglianza installate di recente nella cittadina. A tal proposito un plauso è arrivato dal sindaco di Agropoli Roberto Mutali Passi. L'attenzione è alta rispetto al tema sicurezza specie a seguito dei furti che si sono consumati di recente ha affermato il primo cittadino. Ringrazio i militari dell'arma di Agropoli e la polizia locale per il costante lavoro di controllo e monitoraggio del territorio. La sinergia tra le forze in campo e la strumentazione presente che verrà presto implementata rappresentano quel quid in più per garantire una maggiore sicurezza alla cittadinanza. E adesso invece cambiamo completamente argomento lasciamo la cronaca per parlare di un'altra tematica importante che riguarda il Cilento lo spopolamento. La comunità montana Gelbison e Cervati ha organizzato un tavolo tecnico proprio per affrontare questa problematica e per cercare di trovare le soluzioni più adatte. ma sentiamo tutti i particolari nel servizio di Silvana Romano. Un tavolo sullo spopolamento e questo è il tema della Convention che si terrà presso la sede dell'ente montano Gelbison e Cervati il prossimo 22 giugno alle ore 17.30. La piaga della desertificazione delle aree interne verrà affrontata nell'ottica del piano pluriannale di sviluppo socio-economico. Oltre ai saluti del presidente Carmine Laurito interverranno Angelo Moretti referente del Rete dei Piccoli Comuni Vanni Ritorto del Centro per l'Impiego di Valo della Lucania Monica Buonanno responsabile dei servizi Ampal per la Campania. Questa è una questione che è venuta a galla con maggiore forza ed è l'ispirazione che ha dato vita poi alla strategia per le aree interne. Negli ultimi anni si è avuto una considerevole cifra di persone che lasciano questi posti per una serie di motivi e quindi l'entroterra, soprattutto il cilento interno, sta pagando un caro prezzo per quanto riguarda lo spopolamento. Quindi i giovani cercano lavoro altrove, anche se negli ultimi tempi un po' di controtendenza c'è, c'è qualcuno che sta tornando perché è riuscito nel frattempo a creare delle soluzioni solide dal punto di vista lavorativo. Ma bisogna lavorare, bisogna lavorare molto su questo tema, coinvolgendo quanto più è possibile le istituzioni per sensibilizzare tutti quanti sulla necessità di trovare e di studiare delle alternative utili che servano a mettere un freno a questa piaga che è effettivamente un problema enorme per le nostre aree. Praticamente noi abbiamo dei piccoli paesi come il nostro, come il mio, ma tanti altri che nell'arco degli ultimi dieci anni hanno subito una grave perdita di popolazione. Quindi sicuramente è importante quello che è stato già messo in campo, anche se la strategia per il cilento interno è partita in ritardo e quindi alcune misure sono state purtroppo perse. Però stiamo facendo quello che è possibile soprattutto sollecitando le istituzioni che nel frattempo non riescono a produrre i progetti utili per poter portare su questo territorio risorse altrettanto necessarie. Come comunità montana Gerbisone e Cervati siamo stati designati come capofila per una misura molto importante che è quella del paniere mediterraneo che ha dato vita ad un partenariato pubblico e privato. Adesso siamo passati alla fase successiva che è quella che vede la creazione delle filiere. Quindi abbiamo concentrato l'attenzione su alcuni prodotti che sono tipici e che caratterizzano secondo noi quest'area e su questo stiamo lavorando ed è un discorso appunto in itinere. Sabato il palazzo comunale di Serre si è illuminato di rosso per la giornata mondiale dei donatori di sangue istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2014 che ogni anno ricade. Del 14 giugno il comune guidato dal sindaco Antonio Opramulla ha risposto positivamente all'appello di Anci Associazione Nazionale Comune d'Italia che ha invitato tutti gli amministratori ad illuminare le sedi municipali con un fascio di luce rossa. E adesso cambiamo di nuovo argomento. Come ben sappiamo venerdì c'è stata l'assegnazione a Roma delle Cinque Vele. Tante sono state le soddisfazioni ma anche le polemiche a Castellabate. Vediamo che la minoranza attacca ovviamente il sindaco Marco Rizzo per il declassamento per ciò che è accaduto nel piccolo centro cilentano. Ma sentiamo tutto nel servizio di Manuel Chiariello. Castellabate perde posizioni rispetto al passato e ottiene solamente quattro vele nell'importante riconoscimento promosso da Lega Ambiente e Touring Club. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Rizzo ha chiesto immediatamente delucidazioni alla direttore di Lega Ambiente sulla situazione. La notizia ha destato in noi stupore proprio alla luce del continuo incremento nonché miglioramento dei servizi offerti. Nonostante l'attenzione costante al territorio e all'ambiente grazie all'implementazione di migliori servizi ci troviamo ad ottenere non cinque ma solo quattro vele. Provederemo ad inoltrare apposite osservazioni scritte anche a tutela dell'immagine di Castellabate la quale continua a crescere sotto tutti i punti di vista ha dichiarato il sindaco Marco Rizzo. La notizia ovviamente non è passata inosservata anche per quanto riguarda la minoranza e Domenico Di Luccia di Castellabate al centro ha così tuonato sulla vicenda. Il grande lavoro messo in atto dalla precedente amministrazione in campo ambientale è stato cancellato dal risanamento di Baia Arena alla realizzazione di una moderna isola ecologica oggi abbandonata al suo destino passando anche per l'attenzione al verde pubblico e alla sensibilizzazione così si collezionano sconfitte. Lo stesso ha fatto anche l'ex sindaco facendo funzioni Luisa Maiuri che ha messo in evidenza come la strategia di sviluppo sostenibile portata avanti negli anni passati fatta di azioni continue rivolte alla qualità delle acque, delle spiagge e a tanti altri fattori sia stata ignorata o sottovalutata dalla recente amministrazione. E dalle polemiche che arrivano da Castellabate che da 5 vele è passata alle 4 vele andiamo invece nel comune di San Giovanni Appiro che ha confermato invece anche per quest'anno le 5 vele e la grande soddisfazione del sindaco Ferdinando Palazzo. Vediamo tutto nel servizio. Sono Pollica, San Giovanni Appiro e San Mauro Cilento le tre regine della Campania e del Cilento. A decretarlo è stata Lega Ambiente insieme al Touring Club Italiano che ha assegnato alle tre località l'importante riconoscimento delle 5 vele nel corso della cerimonia che si è tenuta lo scorso venerdì a Roma. Le tre località cilentane permettono alla Campania di posizionarsi al terzo posto tra le regioni più premiate a pari merito con la Puglia e non solo. Pollica, San Giovanni Appiro e San Mauro Cilento si posizionano rispettivamente nella classifica generale al terzo, sesto e tredicesimo posto occupando dunque la zona alta della classifica che ancora una volta premia l'eccellenza del mare cilentano. È una politica che parte da lontano è una politica che coinvolge l'intera squadra amministrativa l'intera squadra amministrativa che ha supportato questo lavoro che coinvolge l'intera comunità nella nostra politica ambientale è una politica ambientale in cui noi abbiamo creduto da subito dal 2015 e sono molto molto orgoglioso del risultato che abbiamo raggiunto quest'anno perché per la prima volta non venivano premiati i comprensori ma veniva premiato il comune singolo questo non significa che a noi non faceva piacere una politica di comprensorio come era quella di prima una politica di territorio però con la individuazione del singolo comune c'è la possibilità di rendersi conto effettivamente se le politiche del nostro comune erano le politiche giuste ed erano le politiche trainanti poi come abbiamo visto di quello che era un intero comprensorio o comunque le politiche che più incidevano sul comprensorio ai fini della classificazione poi di questo riconoscimento che sono le cinque vere di lega ambiente che è un riconoscimento per noi importante e fondamentale perché premia non soltanto la cristallinità e la bellezza e l'eccellenza di quelle che sono le nostre acque di balneazione ma premia tutte quelle politiche ambientali che noi stiamo portando avanti e da ultimo la comunità energetica che stiamo costituendo nel nostro comune è un premio che è stato conferito soltanto a 21 comuni in Italia il che ci inorgoglisce ancora di più e se da una parte ci rende orgogliosi da un'altra parte ci affida la responsabilità di fare ancora meglio e di mantenere quelli che sono i risultati raggiunti andando al di là dell'ostacolo e un plauso a quanto ottenuto dalle tre località cilentane arriva anche dal consigliere provinciale Carmelo Stanziola beh innanzitutto mi corre l'obbligo come consigliere provinciale fare un plauso e un complimenti alle amministrazioni che hanno ritirato le cinque vele che sono salite sul podio quindi mi rivolgo con grande spirito di sensibilità e di rispetto e applauso dicevo al comune di Pollica al comune di San Mauro Cilento al comune di San Giovanni Appiro che hanno ritirato queste vele un vessillo importante le cinque vele di lega ambiente e quindi so che cosa significa lavorare raggiungere quegli obiettivi quindi riconosco l'impegno l'impegno che va dal rispetto del mare dal rispetto dell'ambiente da una organizzazione diversificata anche di attività collaterali di cui un'amministrazione si deve impegnare quindi lo dico anche da ex sindaco di un comune importante come Centola Palinuro e quindi riconosciamo al lega ambiente io ho detto in questi anni grazie meno male che c'è il lega ambiente che ci incendiva ci invoglia ci accompagna ci suggerisce quali debbono essere alcune attività che poi ti consentono di raggiungere e di ottenere questo vessillo e adesso invece andiamo ad Agropoli taglio del nastro per via Pisacane l'inaugurazione è avvenuta il 17 giugno ma vediamo tutto nel servizio di Raffaella Giaccio in Focilento si trova presso via Pisacane ad Agropoli per l'inaugurazione della messa in sicurezza e riqualificazione di questa importante strada che poi costeggia uno dei luoghi di cultura della città di Agropoli e cioè Palazzo Civico delle Arti ma ascoltiamo l'intervista al primo cittadino Roberto Mutalipassi finalmente si restituisce una zona sindaco che aveva bisogno di interventi di riqualificazione sì assolutamente sì bisogno di interventi di riqualificazione ma soprattutto di messa in sicurezza non dimentichiamoci che appunto l'opera più importante e anzi l'importante dal punto di vista della sicurezza è quello della realizzazione di una rete di palificazione che appunto ha permesso che si potesse fermare quel fenomeno di movimento franoso che aveva interessato questa zona che poteva mettere in pericolo i fabbricati retrosanti da quale ricordiamo che c'è il Palazzo Civico delle Arti però si è approfittato del finanziamento del PNR e ringrazio di questo i tecnici che hanno lavorato a ciò in primis l'ingegnere Agostino Sica che è stato il progettista del lavoro e poi i tecnici che si sono susseguiti a cominciare dal gruppo Sergio Laureana per la direzione del lavoro e che hanno permesso l'impresa che ha realizzato questa opera nel rispetto di quelle che sono poi le indicazioni e le prescrizioni della sovrintendenza ai beni paesergistici è un'opera che riqualifica una parte caratteristica bellissima della nostra città e che siamo certi attirerà tanti visitatori oltre che di residenti ma di tanti turisti che vedranno in questo posto un posto sicuramente da poter visitare da poterci stare dove potessi scattare delle foto o delle immagini che sicuramente rimarranno poi porteranno a loro un bel ricordo della nostra città Sindaco qualche cittadino prima sentivo chiedere chissà se verrà installata qualche panchina insomma per potersi sedere ecco questa è una strada comunque sì pedonale ma sarà anche carrabile insomma come dicevamo poc'anzi a telecamere spente ricordo che sarà una zona di traffico limitato quindi per il traffico dedicato ai residenti perché comunque è una via dove ci sono un luogo dove ci sta tante persone che vi abitano saranno realizzate delle panchine saranno messe in sicurezza delle panchine anche sul muletto stesso saranno sicuramente date realizzate delle panchine in modo da poter permettere di godere in tranquillità eventualmente anche leggendo su un libro di poter godere questo bellissimo panorama e adesso apriamo l'ampia pagina dedicata allo sport e partiamo proprio dalla città di Agropoli dove si sono tenuti i campionati italiani di promesse oltre 1500 atleti hanno partecipato all'importante Kermess tenutasi sabato e domenica presso lo stadio Guariglia ma sentiamo tutto nel servizio di Ernesto Rocco un altro grande weekend di sport ad Agropoli presso lo stadio Raffaele Guariglia sabato e domenica il campionato italiano promesse con risultati importanti e record vediamo le interviste che abbiamo realizzato per voi Angelo Palmieri un altro grande weekend di sport dopo quello vissuto la scorsa settimana c'erano i campionati di società oggi un altro grande evento e tante persone qui allo stadio Guariglia per una manifestazione di atletica davvero importante Sì grazie Ernesto grazie Infocilento che oggi tra le altre cose è anche sponsor media della manifestazione e abbiamo raddoppiato quest'anno gli eventi rispetto a quello che era la tradizione siamo riusciti a portare a casa in consiglio prima regionale poi nazionale due grossi eventi sintomo di una grande sinergia tra la federazione e il comitato organizzatore locale che mi onoro di presiedere e la fida nazionale questo grazie ad un gruppo di lavoro ormai lo diciamo da tempo consolidato e rodato proiettato veramente al sacrificio alla risoluzione di ogni problema perché i problemi in grosse manifestazioni ci sono sempre e devo dire ne stiamo uscendo alla grande siamo fieri del lavoro che si sta facendo oltre 100 tra collaboratori volontari e 80 giudici sono qui in sinergia a muoversi per portare avanti quella che è la manifestazione clou degli under 23 20, 21, 22 anni sono il triennio che partecipa che sta partecipando sulla pista e sulle pedane intitolata proprio dello Stato Guariglia intitolata proprio a Pietro Mennea sintomo che vogliamo che si vada forte i risultati stanno arrivando il vento che nell'atletica implica il risultato perché superiore a 2 metri al secondo da nullo in un qualche modo per i minimi europei e mondiali lo stesso risultato in questo momento il vento ci sta dando una mano e quindi tutto sta procedendo per il meglio l'atletico movimento che sta crescendo molto anche qui in Campania è importante anche avere sempre più strutture a disposizione per organizzare anche questi grandi eventi questa è la nota dolente purtroppo la regione Campania è a secco di impianti purtroppo gli impianti fruibili si contano sulle dita di una mano e questo ci penalizza un pochettino però ci stiamo dando tanto di quell'impegno e tanto di quell'entusiasmo nel portare avanti l'intero movimento in Campania che i risultati stanno cominciando a farsi vedere ci auguriamo che al più presto si possa fare quel cambio di marcia tanto voluto da questa gestione amministrativa ci sono i presupposti quindi i presupposti ci sono tutti il movimento giovanile sta crescendo bene e sarà quello sul quale noi stiamo puntando tanto si parla spesso delle strutture anche il presidente Fidal diceva che in Campania ci sono un po' dei limiti per quanto riguarda le strutture però oggi facciamo anche un applauso alle associazioni perché è vero ci sono le strutture qui ad Agropoli però ci sono anche associazioni che stanno facendo passi da gigante assolutamente non mi strangerò mai di dire l'ho detto sempre lo dirò sempre avere le strutture poi non avere chi effettivamente le rende utili le rende vive e quindi questa meravigliosa sinergia che si è riuscita a creare nel corso degli anni tra le amministrazioni comunali anche quelle che mi hanno preceduto e questa attuale stiamo cercando di continuare nel percorso tracciato nel solco tracciato gli anni scorsi di dotare la città di impianti sportivi che ci vengono invidiati in tante altre regioni d'Italia ma nello stesso tempo grazie appunto al sacrificio all'impegno di tante associazioni presenti al territorio di vari settori ma in questo caso specifico di questi due fine settimana dell'Atletica Agropoli e nello specifico di Angelo Palmieri che è anche un rappresentante è il presidente della Fidel Provinciale quindi è veramente anche un rappresentante a livello diciamo di Fidel di Federazione di Atletica Eleggeri che è un premio per quando Angelo Palmieri ha costruito nel corso degli anni ed è riuscito a portare anche la nostra squadra di atletica nelle serie B nazionali quindi veramente un traguardo storico complimenti a lui all'Atletica e a tutte le associazioni di sport presenti sul nostro territorio nazionale che rendono vivo e partecipano non soltanto l'impianto Guariglia e la pista di atletica ma anche gli altri gli altri impianti dedicati al basket e alla pallavolo è un evento estremamente significativo per la città di Agropoli riteniamo che deve ultimamente crescere questo evento anche per sensibilizzare i giovani e per portarli verso una disciplina qual è l'Atletica Leggera che è definita per l'appunto come la regina di tutti gli sport volevo ringraziare Angelo Palmieri per la dedizione per l'amore che mette nell'ambito dell'organizzazione annuale di questo evento e gli auguriamo il meglio anche in prospettiva futura e dall'Atletica di Agropoli ci spostiamo ai campionati mondiali di Kudo che si sono svolti a Tokyo in Giappone ma una nostra concittadina una cilentana abitante di San Giovanni a Piro ha vinto la medaglia di bronzo l'amministrazione ha deciso di rendergli un plauso con una targa ma sentiamo tutto nel servizio E salita sul podio ai campionati mondiali di Kudo tenuti a Tokyo in Giappone Ilaria Gresta la 38enne originaria di Scario frazione costira del comune di San Giovanni a Piro che nella categoria femminile meno 220 è riuscita a conquistare la medaglia di bronzo 24 le nazioni in gara provenienti da tutte le parti del mondo per un appuntamento imperdibile nel panorama delle arti marziali una competizione internazionale alla quale la Kudo Italia presente con un folto numero di atleti non poteva mancare raggiungendo ottimi risultati tra gli atleti in gara un posto di rilievo l'ha occupato proprio Ilaria Gresta già reduce dalla scorsa esperienza del 2018 l'atleta cilentana superata la fase eliminatoria contro la sua sfidante di nazionalità indiana si è scontrata sul tatame in semifinale con l'atleta di punta giapponese per la Gresta la medaglia di bronzo che le ha consentito di portare a casa un'esperienza straordinaria ma anche il riconoscimento assoluto del suo valore un traguardo importante per l'atleta discario omaggiata lo scorso weekend dall'amministrazione comunale capeggiata dal sindaco Ferdinando Palazzo di una targa che attesta la condivisione dell'importante successo e non solo da parte del primo cittadino e dell'amministrazione presente diverse sono state le parole di stima pronunciate nei confronti della Gresta racchiuse tutte nella frase contenuta nella targa orgogliosi dei tuoi successi c'è dietro tantissimo lavoro tantissimo lavoro perché diciamo che la manifestazione era molto grande e quindi lo sforzo richiesto era altrettanto grande il lavoro è durato in realtà tanto nel tempo perché serve anche tanta esperienza per riuscire a raggiungere un obiettivo così bello e devo dire che la passione è la prima guida cioè il primo elemento che mi ha sempre guidato ad andare avanti nonostante le difficoltà nonostante il fatto che non sia una professionista e non lo faccio per lavoro questo ma lo faccio semplicemente per passione il tuo prossimo obiettivo? il mio prossimo obiettivo è assolutamente riprovarci entro quattro anni o magari tra due anni alla Coppa del Mondo a chi vanno i tuoi ringraziamenti? innanzitutto al mio compagno di vita e il mio maestro Paolo all'altro nostro maestro Riccardo a mia madre a mia sorella e tutte le persone che mi hanno supportato e adesso invece parliamo di sport ovviamente svanisce il sogno Serie D per l'Agropoli nonostante la vittoria per 2 ad 1 ovviamente a festeggiare sono i giallorossi del Gallipoli grazie al risultato dell'andata di 4 ad 1 ma sentiamo i particolari nel servizio di Carmine Infante si scioglie tra le lacrime il sogno dei delfini ma anche tra gli applausi dei tifosi applausi per chi ha lasciato sul sintetico rovente del Carrano ogni goccia di sudore che aveva in corpo oggi in campo si è visto un grande Agropoli una squadra che è il contraltare di quella vista all'andata Turco ha motivato in modo impressionante i propri giocatori che hanno annichilito le trame di carrozza ai salentini incalzati non è restato che affidarsi a lanci lunghi e a infiniti temporeggiamenti che alla fine però hanno pagato partita nervosa fin dai primi minuti con continue interruzioni del gioco fino a quando Salerno al minuto 30 emerge da una mischia sulla trequarte avversaria punta la porta e lascia partire un destro preciso che buca passaseo sul primo palo al minuto 46 è infimo a riacendere il sogno mettendo la testa su un cross del più che positivo Padovano si va al riposo sul 2-0 mentre il Carrano sussulta nel secondo tempo lo spartito rimane lo stesso gli ospiti non riescono ma a ripartire dal basso come vorrebbero il capitano Scialpi non tocca palla grazie al predomino territorale di Natiello che spadroneggia l'Agropoli ci mette il cuore mentre la stanchezza si fa sentire Carrozza ricorre ai ripari inserendo Pershud al terzo della ripresa il francese entra bene in campo ma la musica non cambia Agropoli attacca Gallipoli difende peccato per una bella girata d'infimo che per poco non fa implodere il settore locale la doccia è gelata al minuto 33 Pershud mette il piede in una mischia furibonda dopo un calcio d'angolo di Scialpi è 2 a 1 servirebbe un miracolo i miei padroni di casa sono sfiniti dallo sforzo i cambi di Turco non pagano sebbene i delfini non smettano di crederci fino al 96esimo in ultrato quando Gianluca Catanzari di Catanzaro spegne il sogno Serie D un Agropoli davvero bello e coraggioso che esce contro una squadra forte al termine di una vera e propria battaglia e con lo sport concludiamo la nostra edizione quotidiana della informazione informazione targata Info Cilento TV rigorosamente in diretta sul canale 79 del digitale terrestre l'appuntamento è per domani mattina con la rassegna stampa mentre per quanto riguarda l'informazione ritorniamo puntuali sempre alle 13 e 50 sul canale 79 del digitale terrestre grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata grazie per aver guardato